Giovanni De Gennaro, olimpico di canoa, ha il desiderio di far conoscere la bellezza del Mella e sensibilizzare sul rispetto delle sue acque, valorizzandone l'ambiente circostante. Medaglia d'oro alla Coppa del Mondo 2016 disputata sia di Ivrea e settimo classificato in K1 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, Giovanni sarà protagonista giovedì 22 marzo del progetto I Love Mella. Questa idea è nata da me, diciamo è un fiume davvero impegnativo e per me è stato sempre un sogno poterlo discendere e da bambino mi sono applicato molto e sono riuscito a raggiungere un livello di tecnica e di forza per poterlo fare e poter mostrare ai cittadini cosa è davvero questo fiume che quando arriva a Brescia purtroppo è spesso inquinato e sottovalutato, è davvero un sogno che ho coltivato da molto tempo e finalmente il 22 marzo riusciremo a compiere questa discesa. Una truppe specializzata realizzerà un video della discesa che mostrerà il fiume nel suo splendore e al contempo ne evidenzierà l'attuale fragilità. Un progetto quindi che intende sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente naturale Valtrumplino e promuoverne una gestione sempre più sostenibile. Il percorso sarà molto impegnativo nel primo tratto dell'Alta Valle, la pendenza chiaramente è maggiore e ci saranno dei salti e delle rapide davvero nel quale bisognerà prestare attenzione. Più si scende a valle e più si troveranno invece delle difficoltà strutturali perché saranno degli sbarramenti, dei prelievi d'acqua, dei rilasci di molte aziende alle quali bisogna comunque fare attenzione perché non è più un ostacolo naturale ma un ostacolo artificiale nel quale la canoa può rimanere incastrata o comunque creare una situazione pericolosa. L'orario di partenza è previsto alle nove e mezza a Bovegno e il tratto diciamo quello più impegnativo richiederà un paio di ore, tre ore mentre da Gardone faremo tappa in Beretta che ci ospiterà per un punto di ritrovo, un incontro per riposarci a luna e mezza dopodiché ripartiremo e arriveremo fino al comune di Brescia. È difficile indicare un'ora di arrivo perché non sappiamo bene le difficoltà che troveremo visto che non è mai stato fatto quindi non sappiamo neanche noi cosa aspettarci. La realizzazione del progetto Ilovmella è stata resa possibile dalla provincia di Brescia, dal comune di Brescia, dalla comunità montana Valle Trompia, dall'azienda Servizi Valle Trompia, dal canoa Club Brescia, da Beretta S.p.a., dalle trafilerie Ghidini S.p.a., dall'agenzia Gioidis e da Fondazione ASM. Sì, noi abbiamo voluto prendere in carico questo bel progetto di rilancio di un'iniziativa molto importante per la nostra provincia e il nostro territorio che è quella del risanamento delle acque del fiume Mella. Per farlo non c'è bisogno soltanto di un grande progetto industriale come quello del depuratore di valle ma c'è bisogno anche di costruire una cultura della sostenibilità e quale occasione migliore per farlo se non avere un campione dello sport che diventa in qualche modo testimonial di un'assunzione di responsabilità e di un'operazione di orgoglio verso la bellezza del proprio territorio.